Situato lungo un'antica via del sale tra il mare e il suo entroterra in una posizione prossima al crinale per le molteplici attività della location che fanno riferimento all'alpinismo lento, cultura, tradizione, storia e sport, oggi il borgo di Codeglia si sta sempre più affermando come bella e frequentata meta turistica outdoor per chiama tranquillità, sport, dolce e natura. Quelli che un tempo erano stati lo spopolamento e di conseguente abbandono del territorio oggi sono soltanto un ricordo. Tempo fa l'associazione Mangia Trekking tra gli ideatori italiani delle attività sportive connesse al termine lento, in collaborazione con il comune di Riccò del Golfo e con la gestione dell'albergo diffuso di Codeglia, in un vicolo del paese colorato con pietra vista, aprì un point di riferimento. Obiettivo contribuire ad un progetto di valorizzazione territoriale per uno dei borghi della Val di Vara maggiormente legati alla storia delle Cinque Terre, con un trascorso fatto di agricoltura, allevamenti di animali e produzione di formaggi. Così, nell'intento di sviluppare attività di alpinismo lento in collaborazione con i gestori dell'albergo diffuso, l'associazione Mangia Trekking, a cui si deve anche la manutenzione e la segnaletica dei sentieri, ha spostato il proprio point in un locale posto all'ingresso del paese colorato, in un luogo con una piccola aia ben visibile che immediatamente indica a chi vi giunge l'anima del borgo. Da qui la soddisfazione dell'associazione Alpinismo Lento nel contribuire effettivamente a quel progetto che vuol vedere Codeglia affermarsi quale bella risorsa turistica in un ampio territorio tra Golfo dei Poeti, Val di Vara e Cinque Terre.